Si chiama Elisabeth Eaton Rosenthal, è una donna di 81 anni di età, la quale è letteralmente fissata con il colore verde, viene chiamata infatti la signora in verde, si veste di verde, i capelli sono verdi, gli occhiali sono verdi, le unghie sono verdi, il cappello che utilizza è verde, il maglioncino che utilizza sia quello sotto che la maglia di sotto è di colore verde, insomma tutto è verde in casa sua e tutto è verde quel che ha addosso, ed anche molto apprezzata o meglio ha una grandissima passione nei confronti del giardinaggio ed anche per i suoi due amati cani. La donna non si stanca minimamente di farsi vedere così com'è con questo verde addosso e tra l'altro ha più di 400.000 follower su Instagram dove pubblica le sue foto rigorosamente di verde, pensate addirittura che la tazza che utilizza per bere il latte è di colore verde, insomma il verde ovunque predomina, la sua casa è tappessata di cose, di oggetti, tutti verdi, scatole verdi, custodia per gli occhiali verdi, tutto è verde brutto. Bene, complimenti da questa donna incredibile, pazzesca, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.